Musica Sacchetti di plastica non a norma, sequestrati oltre 3 milioni di pezzi, sanzioni per 100.000 euro nel Cosentino. Drangheta in Liguria, confiscati beni per 400.000 euro ad un 65enne calabrese. La regione Calabria sarà partner ufficiale di McFruit 2023. Consegnati altri due treni pop in Calabria. Ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di Calabria TV. I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno sequestrato 3,3 milioni di sacchetti in plastica non biodegradabili, il cui commercio è ormai vietato da diversi anni. Hanno elevato inoltre sanzioni amministrative per 100.000 euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno eseguito alcuni controlli nella cittadina di Rossano, che hanno portato al sequestro di 3 milioni e 300 mila sacchetti di plastica non biodegradabile, il cui commercio è ormai vietato da diversi anni, elevando sanzioni amministrative per 100.000 euro. L'impresa controllata commercializzava shoppers non conformi alla normativa dirigente, da qui il sequestro delle fiamme gialle della compagnia di Corigliano Rossano di oltre 14.600 tonnellate di materiale plastico, per un valore stimato di circa 60.000 euro. Il commercio di buste di plastica irregolari, oltre a costituire un business molto riditizzo, considerati costi ridotti, fino a un decimo rispetto alle buste realizzate con materiali biodegradabili, rappresenta una forte minaccia per la salute, atteso che l'immissione nell'ambiente di materiale plastico proveniente dai shopperi illegali è un grave e annoso problema che può comportare l'integrità dei diversi ecosistemi e della catena alimentare. L'attività di indagine comunque non sono terminate, anche perché si sta cercando di individuare la filiera di produzione e di distribuzione di questi sacchetti non a norma. Un incendio è scoppiato all'interno del cantiere dell'Istituto Comprensivo Murmura 30 Capilli, a Vivo Valencia, chiuso per un adeguamento strutturale e sismico. E' stato immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il peggio. Sabato pomeriggio di fuoco a Vivo Valencia. Al tramonto una forte coltle di fumo nero ha invaso il cielo della città, sormontando l'area archeologica di Sant'Aloe proprio di fronte alla questura. Subito è partito il passaparola tra quanti, passando lungo la via, si sono accorti del fumo nero ed è scattato l'allarme. Si è subito capito che la zona interessata era quella all'interno del plesso scolastico che accorpa la scuola elementare 30 Capilli e la scuola media Murmura. L'edificio, come si sa, è momentaneamente dismesso perché è interessato ai lavori di ristrutturazione predisposti dall'amministrazione comunale. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale ed una pattuglia della polizia locale, mentre venivano avvisati il dirigente scolastico, Diziana Furlano, ed il sindaco Maria Limerdo. Entrambe sono giunte sul posto, con il sindaco accompagnato dall'assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo e dall'assessore alle attività produttive Carmen Corrado. Le fiamme hanno colpito il retro dell'edificio, al pieno terra dell'area dove era sistemata la palestra esterna e che con ogni probabilità fungeva in questo momento da deposito. Questo spiega perché il fuoco abbia attecchito velocemente e le fiamme siano apparse subito pericolosamente alte ed incombenti. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco giunti in forze con due autobotti ed altri mezzi di supporto ha consentito lo spegnimento veloce delle fiamme, evitando che il fuoco si propagasse nelle altre parti dell'edificio comunque sgombro per via dei lavori. Una volta spento l'incendio, gli stessi vigili del fuoco hanno transennato il perimetro dell'edificio per avviare i relativi accertamenti utili e comprendere se le fiamme possono aver potuto provocare danni alla struttura. Forte il rammarico della dirigente scolastica, seppure rassicurata che l'incendio è stato domato velocemente. Indignazione da parte del sindaco Maria Limardo in attesa di capire quale sia la reale causa che ha provocato l'incendio. Anche se in ristrutturazione è la scuola questa, deve essere colpita. Tanto, tanto. Siamo qui in attesa di capire cosa è successo. È una ferita, ancora una. In effetti comunque c'è stata tempestività nell'intervento, quindi i danni sono stati almeno contenuti. Ma credo che i danni siano in ogni caso contenuti perché la scuola era stata svuotata quasi completamente per il trasloco che è stato effettuato. Quindi non credo ci siano grandi danni alla struttura perché l'intervento è stato molto tempestivo. Credo siano delle mascherine che abbiano preso fuoco in qualche modo che erano rimaste nella parte esterna. Forse la ditta le aveva poggiate là. Non sappiamo. Aspettiamo di poter fare il sopralluogo. Sì, nego. Intervento tempestivo. Forse lo possiamo derubricare a un atto vandalico e nulla più. Ma io sono certa che ancora una volta le telecamere ci aiuteranno. Voglio ancora una volta dire a tutti i cittadini e a chiunque fosse stato se si è trattato di un atto vandalico o se non sia successa una cosa così, non lo so, un incidente, un cortocircuito, non saprei, è ancora tutto da vedere. Però ancora una volta le telecamere ci aiuteranno perché la zona è monitorata. Quindi se si fosse trattato di un atto vandalico o di un qualcosa del genere certamente la persona sarebbe individuata. Purtroppo cosa possiamo dire? Per fortuna dalle immagini che sono arrivate io mi sono molto impressionata. Sono corsa subito sul posto e erano già presenti i vigili del fuoco e la polizia. Però sembra che il tutto sia più contenuto per fortuna, che si siano incendiate solo alcune mascherine. Confiscati beni immobili e conti correnti per circa 400 mila euro ad un calabrese di 65 anni, originario di Cittanova ma da tempo residente ad Albenga, in provincia di Savona. La direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. L'uomo è ritenuto vicino ad una cosca d'indrangheta di Cittanova, le cui proiezioni operative in Liguria erano state confermate anche dall'esito di un'inchiesta precedente, a conclusione della quale la DIA e la polizia avevano eseguito un'ordinanza di custodia catelare nei confronti di 42 persone, indiziate di associazioni di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni e corruzione. Tra queste persone anche il 65enne. La A2, autostrada del Mediterraneo, continua ad essere a distanza di tanti anni un cantiere aperto. Servirebbero stanziamenti da parte del Governo per far partire lavori di ammodernamento della grande arteria stradale che attraversa tutta la Calabria. Matteo Renzi tagliò il nastro a dicembre 2016, Paolo Gentiloni la inaugurò qualche mese dopo, l'ANAS le cambiò addirittura nome, trasformando la vecchia Salerno Reggio nella A2, autostrada del Mediterraneo. Eppure la grande arteria stradale che attraversa la Calabria continua ad essere a distanza di anni ancora un cantiere aperto. Sarebbe sufficiente chiedere a chi quotidianamente percora il tratto tra Cosenza e Santonofrio per avere conferma dei disagi e dei rallentamenti cui si va incontro. E se il ponte sullo stretto sarà una grande occasione per il sud del Paese e un grande attrattore di investimenti infrastrutturali, come ripetono gli esponenti del Governo, occorrerà parallelamente lavorare per sviluppare al meglio tutte le opere complementari indispensabili per raggiungerlo algevolmente. Fra i tratti che hanno obiettivamente bisogno di ammodernamento c'è di sicuro quello che da Cosenza conduce ad Altiglia, Grimaldi, Curve, Viadotti, Gallerie, più che a un'autostrada assomiglia a un tracciato da rally nel cuore dell'Appennino. L'ANAS ha già avviato uno studio preliminare che prevede lotti funzionali per l'avanzamento della variante lunga 26 km. Servono dunque stanziamenti da parte del Governo nazionale per iniziare i lavori. In tutto occorrono 2,6 miliardi, 400 sono già nella disponibilità di ANAS, sarebbero necessari altri 2,2 miliardi da reperire nell'accordo di programma con ANAS per procedere alla realizzazione dell'opera. Come prioritario viene individuato il lotto 4 caratterizzato dalla presenza dei viadotti Stupino e Ruiz che verranno dismessi e sostituiti con opere delle tutto nuove. La Regione Calabria sarà partner ufficiale di MacFruit 2023, la più importante fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo e all'innovazione tecnologica nel comparto, che si terrà dal 2 al 5 maggio prossimi all'Expo Center di Rimini. L'ufficializzazione è arrivata dall'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, in coda ad un incontro che si è svolto in cittadella alla presenza del Presidente e delle dirigenti della fiera riminese, rispettivamente Renzo Piraccini e Gigi Bianchi, oltre che dal Direttore Generale del Dipartimento di Agricoltura Giacomo Giovinazza e dai rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e dei consorsi di tutela calabresi. È ritornata dopo anni di assenza a Taurianova nel Regino l'attesissima fiera di San Giuseppe. Ritorna la festa di San Giuseppe alla grande qui a Taurianova, oggi si festeggia San Giuseppe. Sì, ritorna la grande dopo la pandemia, giustamente. C'è una ripresa, c'è un entusiasmo generale. La gente esprime quel bisogno di stare insieme, non solo per la festa civile, ma anche nelle celebrazioni eucaristiche. Abbiamo avuto tanta tanta gente durante la novena ed è stato un bel segno, un segno di comunione questo. Con questo grazie anche all'amministrazione che ha voluto portare di nuovo questa festa avanti. Sì, l'amministrazione ha collaborato con la parrocchia, con il comitato festa e quindi quando c'è l'unione, quando le forze si uniscono, le cose vengono bene. Oggi è festa di San Giuseppe, ma anche festa del papà. Sì, è festa del papà. Festa del papà perché San Giuseppe è stato il padre putativo di Gesù. Ha accompagnato Gesù nella sua crescita. Quindi è festa del grande patriarca della Chiesa, del custode della Chiesa Universale. Festa quindi anche del papà e auguriamo che questi papà, i papà di oggi, possono essere custodi delle famiglie. Professore Grimaldi, grazie al suo impegno è ritornata di nuovo alla festa di San Giuseppe. Grazie al mio impegno, grazie all'impegno del comitato, di un grande sindaco che mi ha dato anche la possibilità di impegnarmi per queste tradizioni, per le tradizioni che stavano per scomparire. Grazie al nostro parroco, anche John Doncece, il quale ha collaborato con me in tutto e per tutto. Un grande comitato anche qua, fatto da famiglie soprattutto. Quindi la famiglia è veramente come parte, veramente cuore pulsante di Taurianova. Quindi la cosa bella è proprio questa. La festa sta andando bene, domani ci sarà la processione. La fiera sta andando bene anche all'anno UGL del Basso Tirreno che ha portato le bancarelle finalmente nuovamente in questa festa di San Giuseppe, di 19 marzo, che è difficile anche come meteo. Ma oggi abbiamo avuto una bellissima giornata, ringraziando il cielo. Contro la festa oggi è festa del papà, ecco, qual è il messaggio che lanciamo? Allora, il messaggio che lancio, che dico è questo. Dico che la famiglia è formata da un padre e una madre e il padre ha un grande ruolo. Un ruolo veramente che un pochettino sta scomparendo nelle famiglie. E non voglio dire che, e io sono per l'uguaglianza assolutamente, per la parità sia dell'uomo che della donna, ma l'uomo ha una grandissima importanza dentro la famiglia. Quindi un grande appraggio a tutti i papà che sono veramente, in questo caso, il motore delle famiglie insieme alle mogli. Il 18 marzo scorso ha fatto tappe in Calabria il WWF con il progetto Ripartiamo, la più grande iniziativa di pulizia delle spiagge mai realizzate in Italia, con l'obiettivo di ripulire e salvaguardare 20 milioni di metri quadri di spiaggia e sponde di laghi e fiumi. L'iniziativa ha interessato in particolare la spiaggia di Crotone, l'area marina protetta di isola Caporizzuto e di steccato di Cutro. La città di Crotone è aderita al progetto nazionale del WWF Ripartiamo, che mira a svolgere una serie di attività per la salvaguardia dei territori, coinvolgendo aziende, giovani, scuole e la comunità cittadina. In un sabato mattina, baciato dal sole, tanti studenti alle prese sul lungomare cittadino, con la pulizia delle spiagge, armati di tanta buona volontà. Sono molto ambizioso, che si snoda in tre filoni. Il primo è Puliamo l'Italia e qui siamo proprio per dare per questa stagione l'avvio a Puliamo l'Italia. Vogliamo ripulire ben 20 milioni di metri quadri in un anno. Nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, l'Intesa San Paolo e il WWF Italia, finalizzato a rendere tutti istituzioni e cittadini protagonisti della salvaguardia della natura. Perché ripulire? Perché la plastica, in particolare nei nostri mari, è diventato un problema enorme, enorme. Ben 230 tonnellate annue di plastica vengono scaricate nel Mediterraneo. Ed ha un impatto che si riverbera a tutti i livelli, dalla salute umana all'impatto sugli ecosistemi e sulle specie marine. Bisogna quindi intervenire e bisogna farlo insieme e in maniera urgente. Gli altri filoni del progetto Ripartiamo riguardano progetti di ripristino ambientale. Sono ben otto in tutta Italia. Purtroppo abbiamo così degradato gli ambienti naturali che non basta ripulire, non basta conservare. Bisogna ripristinare, bisogna intervenire per recuperare e ripristinare gli equilibri ambientali. Quindi saranno otto interventi di ripristino. E infine il terzo filone riguarda interventi di educazione ambientale con otto workshop nelle università e un programma poi di educazione ambientale rivolto invece alle scuole medie e ai licei. Quindi un intervento a tutto tondo, proprio con questo obiettivo, unirsi per dare un segnale importante nella capacità di intervenire per lasciare un po' un mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Questo è il nostro auspicio. Questa può essere anche una lezione di educazione civica alla PER? Sì, infatti per questa abbiamo coinvolto principalmente le scuole. Quindi oggi abbiamo presente sia il liceo scientifico Filolao, che fa parte anche del programma PCTO, la vecchia alternanza scuola lavoro, e l'istituto comprensivo Alcmeone. Le future generazioni, perché di ambiente se ne deve parlare, soprattutto dobbiamo continuare a stimolare i ragazzi a mantenere pulite le nostre spiagge. Ecco perché siamo qui a Crotone oggi. Oltre sacchi, guanti e ogni mezzo c'è bisogno anche di tanta buona volontà. Sì, sicuramente quello di oggi è il simbolo di lasciare un lungomare pulito ai crotonesi, in maniera tale che trovando pulito magari ci sia un po' più di rimorso nel gestire le spiagge in un certo modo. Come hanno risposto gli studenti di Crotone a questa iniziativa? Vedo bene, insomma. Sì, siamo 180 registrati, poi se ne sono aggiunti altri 40-50, quindi un evento importante. Penso che il comune di Crotone non abbia mai avuto così tanti volontari sulla spiaggia. È una cosa bella ed è una cosa positiva soprattutto la presenza dei giovani. Con una cerimonia solenne si è insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi a Vivo Valencia, all'interno della quale è stato eletto il baby sindaco, il suo vice e il presidente del Consiglio. Vediamo. Io, Messina Daniele Pio, sindaco dei ragazzi della città di Vivo Valencia, Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana e prometto di svolgere con impegno, realtà e sincerità il mio dovere e di dirigere per il bene di tutti i cittadini. Grazie. Si chiama Daniele Pio Messina, ha 13 anni e frequenta la terza E della Scuola Media Garibaldi e questa mattina, con 14 voti, è stato eletto sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vivo Valencia. Nelle seguenti votazioni, Sofia Farfaglia è stata eletta vice sindaco, mentre Francesca Laganà sarà presidente del Consiglio dei Ragazzi, con Teresa Belcastro come vice. Una mattinata emozionante che ha visto tutti i baby consiglieri entrare con cognizione di causa nella loro parte. Sono stati eletti tra tutti i ragazzi che frequentano le scuole medie della città capoluogo dopo una campagna elettorale che ha portato alle elezioni in base al nuovo regolamento approvato nel 2019. Sono molto emozionato per essere qui al Comune, essere accolto anche dal sindaco di Vivo in una sala così importante per il territorio vibonese. E' emozionato perché credevo sin dall'inizio di volerlo fare e ci sono riuscito a prendere questa carica. Cercherò di migliorare anche qualche aspetto del vibonese che magari dei ragazzi è un po' trascurato, evitare che avvengano magari atti vandalici e quindi anche cercare di sensibilizzare i ragazzi sul proprio comportamento. Questo ragazzo ci ha veramente stupito e credo che darà una mano anche attiva all'amministrazione con il suo esempio perché noi adulti abbiamo bisogno dell'esempio di ragazzi in questo modo. E soprattutto quello che mi è piaciuto del suo programma è stato proprio l'elevazione del senso civico della nostra comunità. Elevazione del senso civico che significa anche elevazione culturale, quella per la quale con la mia amministrazione ci stiamo battendo veramente tanto. Sono felice, è una giornata storica, il consiglio dei ragazzi non c'era in città, un'altra pietra, miliare, un altro tassello del puzzle, dell'ampio puzzle della rigenerazione economica, sociale e tra poco anche urbanistica della mia città. Il neo baby sindaco, il presidente del consiglio, oltre al collegio di coordinamento composto da tre consiglieri di maggioranza e due di opposizione, potranno partecipare anche alle assise dei grandi con diritto di voto, mentre i due ragazzi che andranno a ricoprire il ruolo di assessori alle politiche sociali e alla cultura potranno partecipare alle sedute ma senza diritto di voto. Siamo giunti all'ultima notizia, rispettando i tempi previsti dal contratto di servizio, il regionale di Trenitalia, gruppo ferrovie italiane, ha consegnato altri due treni pop in Calabria. Lo hanno reso noto ferrovie dello Stato. Salgono così a sette i treni pop in circolazione sui binari della Calabria. Metà dei nuovi convogli a trazione elettrica previsti dal contratto di servizio, che arriverà nel 2024 a 14 treni. Da oggi anche i due nuovi pop viaggiano sulle linee elettrificate Cosenza-Reggio Calabria, Cosenza-Sapri, Sibari-Cosenza e Melito-Portosalvo-Villa-San Giovanni. E con questa notizia termina il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Ora spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo. È iniziata oggi la tre giorni di Xi Jinping in Russia. Il presidente cinese ha incontrato a Mosca Vladimir Putin che dice guardiamo con interesse alle proposte di Pechino per risolvere la crisi a Kiev. Ma la Casa Bianca replica. Se la Cina proporrà il cessate e il fuoco, Kiev lo respinga. La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili. Siamo pronti a vigilare con Mosca sull'ordine mondiale basato sul diritto internazionale e sui principi della Carta delle Nazioni Unite, aveva affermato prima del faccia a faccia il leader cinese. Al termine del vertice con Putin, colloquio telefonico del presidente cinese con Zelensky che lancia il suo appello. Xi Jinping usi la sua influenza su Putin per fermare la guerra. Arriva intanto l'ultima provocazione dell'ex presidente Medvedev. Si potrebbe lanciare un missile contro la Corte Penale Internazionale dell'AIA. I mercati restano agitati malgrado il salvataggio di Credit Suisse da parte di rivali di UBS e l'intervento della Fed e della Banca Centrale Svizzera. Dopo un pessimo inizio, le borse europee recuperano fiducia. Milano sale dello 0,5%, Parigi dello 0,8%, Francoforte dello 0,6% e Londra dello 0,4%. Il sospiro di sollievo allenta la corsa dei beni rifugio come l'oro che azzera i rialzi dopo essere volato sopra quota 2.000 dollari l'oncia. Una soluzione lampo sulla quale plaudono BCE e Fed mentre ci si chiede se possa bastare a frenare la valanga partita dalla Silicon Valley Bank e arrivata a Zurigo. Per il momento UBS paga l'operazione con un calo di quasi 9 punti percentuali in borsa. Intanto la presidente della BCE, Christine Lagarde, dice stiamo monitorando il mercato e siamo pronti, se necessario, a fornire liquidità al sistema finanziario dell'area dell'euro. I nubi fragili e gli uregani legati al clima che cambia uccidono sempre di più nel mondo. I rischi aumentano anche in Europa e si fa sempre più urgente il taglio delle emissioni inquinanti. È quanto si legge nella sintesi degli esperti sui cambiamenti climatici dell'ONU riuniti a Ginevra. Negli ultimi dieci anni il numero dei morti per siccità, nubi fragili e uragani è stato 15 volte più alto. In questi dieci anni un'azione accelerata di adattamento è essenziale. Nel frattempo occorre tagliare subito le emissioni di gas serra. A Piombino prende forma l'installazione al porto della nave rigassificatore Golar Tundra comprata da SNAM per 350 milioni di dollari. Ieri sera dopo le 23 la nave è entrata nel porto trainata dai rimorchiatori. Poi l'attracco nella notte alla banchina S della Darsena Nord. Nelle sue funzioni può rigassificare 5 miliardi di metri cubi di gas liquefatto l'anno, ma sarà completamente operativa solo da maggio quando saranno completati gli allacciamenti con lo snodo di metanodotti della rete nazionale nell'entroterra. È stato trovato questa mattina il corpo della seconda sciatrice svedese travolta ieri con la sua comitiva da una valanga nel canale dello spagnolo a Courmayeur. Ieri era stata trovata senza vita la coetanea di 25 anni, salvi invece gli altri due sciatori della compagnia svedese. I quattro erano stati travolti da una valanga domenica durante una discesa in fuori pista. Le due vittime sono state investite dalla massa di neve piombata a valle. Arriva la primavera alle 22 e 24 italiane. Di stasera scatta l'equinozio l'evento astronomico durante il quale i raggi solari sono perpendicolari all'asse di rotazione della Terra e la durata delle ore di luce guaglia a quella delle ore di buio. Nell'emisfero boreale è anche il momento in cui le ore diurne cominciano progressivamente ad aumentare fino al solstizio d'estate. Nell'emisfero boreale è anche il momento in cui le ore diurne